Ciao ragazzi, benvenuti a Not Just Mecca, è Marco qui e oggi parliamo del Palette Zorn! Il Palette Zorn è nominato dopo l'artista svedese Anders Leonard Zorn, meglio conosciuto per le sue portritte, le scene domestiche e le nudes. Zorn è conosciuto per usare un Palette limitato a solo 4 colori, ma anche se c'è qualche disaccordo sui colori esattamente, è credito che Zorn ha riducato il Palette a gli altri colori di coloro giallo, cadmium-redo-medium, bianco-bio, bianco-bio e bianco. Alcune liste aggiungono anche Viridian, che è un tono verde-bluo, o Cerule e blu, ma oggi voglio usare solo la versione più basica e iconica di questa Palette. Questa è come funziona. Zorn, cadmium-redo-medium e bianco-bio sono basicamente una versione di colori principali, giallo, bianco e blu. Qui sto mixando i toni secondari e alcuni dei loro colori. Cadmium-redo è ricco e caldo, perfetto per creare toni di pelle. Zorn è bianco ma ancora saturato e mixa con bianco per creare alcuni oranze molto piaciuti. Bianco-bio è caldo e funziona come un vero molto profondo, creando colori interessanti di bianco con note viola. Bianco-bio genera colori verde che diventano davvero verde aggiungendo un po' di bianco. Bianco è il componente clave del sistema e, aggiunto ai toni primari e secondari, aumenta il totale potenziale della paletta. Plus, bianco e bianco possono essere usati per cambiamenti in valore e questo aspetto sarà estremamente importante lavorando sul modello. Qui puoi vedere meglio l'estensione dei toni che puoi creare e, se necessitano di improntare una referenza per seguire durante i vostri esperimenti, nella descrizione puoi trovare un link a queste foto. Quindi, perché potresti usare la paletta Zorn? Beh, molti professori di arte trovano la paletta Zorn per essere un ottimo strumento per gli studenti, come limita il numero di possibili opzioni ma permette di una gambe abbastanza di colori di creare una pittura straordinaria, e, più, è abbastanza piuttosto quando si tratta della armonia generale di toni che puoi creare. La idea generale è che un studenti dovrebbe iniziare con una paletta monochrome, usando solo il bianco e il bianco, come noi facciamo nel scelto di valore, poi progressare alla paletta Zorn, poi finalmente a paletti più complessi di colori. Quando dipintare con una così limitata di toni di toni, devi davvero imparcare come usare valore, invece di color, per enfatizzare le forme, e questo è ancora più importante nel nostro medioevo di tre dimensioni, che è tanto dipendente su le luci falsche scelte. Come sempre ho detto, il valore è uno dei più importanti elementi di un peggio, quindi è essenziale che abbia una compagnia firma di questo, e giocando con questo tipo di paletta limitata davvero puoi imparare le scelte in nuovi territori. L'unica limitazione reale del sistema è che non hai un proprio blu, quindi ti perdono su un specifico toni. L'ultima cosa per il blu in questa paletta è un grigli di cool, e vedrai che questo è più di sufficiente per alcuni effetti estremamente interessanti come il metallo non metallico, ma se vuoi imparare un ultramarino, per esempio, sei obbligato di introdurre un grigli di blu extra. Ma la paletta XORM è estremamente effettiva per i portratti, e da che il 99% dei nostri soggetti è creato da un singolo antropomorfico, può essere un strumento molto interessante e versatile. Per la prima apparenza della paletta XORM sul canale, e per mantenere tutto un po' più facile da seguire, ho pensato di usare un modello naturalmente compatibile con questo tono di toni. Sto preparando un secondo video sul sistema XORM, più concentrato sull'uso per il mood e l'atmosfera. Tutti gli arti del Re e del Dio usano questo tipo di paletta XORM, quindi ho deciso di seguire l'arte così vicino che posso per mettere l'ascento su mixare questi colori. Questa è una estensione molto utile all'esercizio perché non solo devi giocare con una selezione limitata di paletti, ma devi coprire gli usi specifici esistenti con la mixazione, in questo modo puoi doppiare l'efficienza del processo di acquisizione. Non dimenticate di iscrivervi e cliccare il bottone per sempre sapere cosa succede sul canale! Ho già completato la prima fase di rinforzamento e rinforzamento del modello, solo ho bisogno di rifinare un po' meglio un paio di superfici. Qui c'è una piccola tipologia di lavoro, non mi piace di usare i file sui miei modelli, sono sempre troppo aggressivi su plastica e resina e sono difficili di usare su forme fluide, rinforzate e rinforzate. Prefisco la piazza per questo tipo di lavoro, perché può davvero rompere e seguire forme complessi, soprattutto se lo soggi in acqua. Ho usato 400, 800 e 1000 grits di piazza, un numero più basso significa grits di grits di più, e lo guardo in piccoli piccoli organizzati da loro grits, quindi non ho bisogno di andare ogni volta nella grande rinforzamento cercando quello che ho bisogno. Il modello è primato e pronto per iniziare! Ho usato una scala gris scelta semplice diffusa senza effetti lì o nessun punto di focale particolare, quindi puoi fare lo stesso con una scelta semplice semplice e rinforzare immediatamente al lavoro di piazza. Ecco sono i colori che vorrei usare! Questo è l'acrilico e è l'unico poto di nero nella mia collezione che sono sicuro di essere nero grits di biazza. Poi lo miscola con gli acrilici standard senza nessun problema. Ho due opzioni per il cadmium, questo tubo pesante è il tuo perfetto, ma nemmeno il potere di rinforzamento che probabilmente necessiteremo per questo lavoro di piazza, quindi mettere nella paletta anche di scale 75, rinforzamento, che è visivamente la stessa, poi ho il scale 75, giallo e il titanio, bianco che sono i toni perfetti. Tone. Inizio a mixare una semplice di toni pezzi calmi. L'orange creato a mixare giallo ocherro e rodo cadmium è una base perfetta. Adesso aggiungo un po' di nero alla stessa progressione per le sfide più realistiche e desaturate, come potrei fare con il blu in una paletta standard. C'è il video qui per più dettagli su mixare toni pezzi basi. Uso un tono medio del secondo, un po' più realistico come un filtro pesante o un controllo, se preferisci, per impostare una base per la pezzi. Ho mantenuto questo schizzo di valutazione estremamente semplice e diffuso, quindi non convede informazioni essenziali come le quelli che normalmente dipinto. Quindi la trasparenza del tono pezzi è più per mantenere la semplice estremamente della pezzi che altro che altro. Mi mixo un lato, giallo, grigio e i loro sfide con i colori giallo ocherro, nello e bianco, potendo modificare quello che vedo nell'articolo. E ancora un paio di livelli trasparenti per mantenere la semplice e un po' di modulazione di valutazione passiva. Questa consistenza è anche molto utile per mantenere e capire i dettagli estremamente finiti dei modelli di Dio, come i pezzi di pezzi per esempio. Mi mixo un bianco, rosso e quasi violetto, usando un po' di tutto in una base di nero e rosso. Voglio qualcosa molto saturato per il tono di base dell'aria, per impostare una differenza visibile con gli altri elementi di brano dell'attività e un punto forte foccato di focala per il viso. Usando il primo pulo come referenza, mi mixo una versione giallo, più desaturata per la armura di l'articolo e tutte le strade. Qui uso meno dilutata e più coperta per impostare un tono molto solido. Ho anche cambiato i movimenti del bianco usando un motore di tappo e di tappo per iniziare a queste aree una strade di tappo e di tappo sull'inizio. Ho basato il bianco usando pure occhi giallo con solo un po' di bianco. bianco. Questa è un'altra parte dove voglio un tono solido e saturato, quindi uso il colore nella sua dimensione originale. Coppendo l'illustrazione, mi mixo un grigio lato con solo un po' di giallo e rosso per tutti gli occhi nell'armura e la scuola. Nell'articolo la piccola parte visibile della scuola sembra bianco, ma non voglio usare il bianco 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 del primer, quindi mi mixo un bianco giallo con una nota di grigio inizio, e un grigio blu per impostare una base calda per l'armura metallica, la maglia di cadena e la mace. Non ho cercato di una copertura totale perché posso veramente usare quella piccola di modulazione creata dall'interno trasparente. Cerco il lavoro di base, impiantando la lanterna con un mix molto lento e dente di giallo occhio e bianco. A questo punto aggiungo un po' di giallo di giallo alla paletta per aiutare con la combinazione e le transizioni. Non fai freddo di usare i giallo per rendere questi passaggi più facilmente, più veloce e ancora più importanti, piuttosto. Non devi soffrire e non è vero! Questo è qualcosa che faccio sempre su questo tipo di pezzi naturali e salute, ma credo che non l'ho mai mostrato sul canale. Mi mixo il rosso con molta acqua e il medium per impiantare un filtro estremamente trasparente sulla tutta la pelle. Ora è molto male e semplice e questo passaggio aggiungerà immediatamente la sensazione vibrante di qualcosa vivo con i sangue di sangue sotto la pelle. Ho usato l'acqua tra le applicazioni per accelerare il processo e lo faccio due o tre volte, ogni volta usando meno pelle e movimenti di controllo del bianco, muovendo da qualcosa come un ufficio lento, poi un filtro, poi un giallo proprio, in punti precisi come l'interno e l'interno del bianco. Ora che ho tutti i toni basi e le prime ombre in posto, ho notato che la pelle è un po' troppo luce e più importante con non abbastanza vibe verde. Ho filtrato il tono con il mix di rosso e verde con il bianco e giallo. Non è il suo uso principale ma questo ha aiutato molto a portare ancora più l'interno super fine di piccoli e piccoli che fa l'altra parte del suo outfit. E perché funziona molto bene sui dettagli finissimi del bianco, ho preparato un uomo per la armatura non metallica per capire tutti i piccoli dettagli. Ho usato un'attività equale di acqua e medio per renderlo trasparente ma sostanzialmente e facile da guidare e controllare. Aggiungo un colore leggero leggero e lo uso per cuocere la base. Aggiungo non ho un plan preciso per il stile della base ma ci sono tantissime parti del corpo e pelle sull'interno che non posso farlo male con questo tipo di vista e questa diluzione farà l'estremamente mattina come una fine pelle su tutto. Posso iniziare a lavorare su alcuni punti, dettagli e texture. Il lavoro sulla pelle è estremamente semplice perché ho bisogno solo aggiungere bianco a tutti i miei toni precedenti. Plus, tutti i colori che ottenete dal mixare sono estremamente armoniose con l'altro perché tutti contengono la stessa nota calda e un contenuto alto alto di bianco, quindi è estremamente facile di aggiungerli insieme e aggiungere toni extra a la pelle e gli altri materiali, mantenendo l'armonia l'escalto del fio è molto stilizzato per migliorare il stile animale di arti e arti concept, quindi non ho forti fattori facili da giocare con e gli occhi e gli occhi sono tutto che ho bisogno per farlo un punto focal. Voglio fare un video dedicato sui occhi e ho avuto alcuni problemi seri a filmare questo passato delicato, quindi qui è un'avviso generale del mio approccio basico per gli occhi di modelli di gioco. Prima dipinto la sclera con un grigio leggero o a volte un tono leggero leggero. Poi lo frano con una linea scura che può essere un brano scuro o nero se c'è una pelle che si involucra. Ho usato una linea fina per l'olio basso e una pelle per l'olio basso per l'olio basso e lo faccio anche più pelle se è una ragione che ha pelle. Per dipintare l'iris, dipendendo dalla dimensione del modello, ho usato un singolo pelle pelle o pelle pelle con un piccolo pelle con un piccolo pelle dentro. ciò che davvero fa che gli occhi riusciano e immediatamente ottenere vita è un piccolo blu bianco rappresentando la finita finita degli occhi e la luce riflettendo sull'olio. mantengo le occhi a un livello minimo per rendere i trattori delicati e gentili, specialmente nella parte inferiore della faccia per mantenere una forma morbida e ronda. l'olio basso di dipintare l'iris è di dipintare e rilassare le singole pelle. L'iris è una massa fluida ma coerente che deve essere rilassata come un entorno. libro e manga in particolare sono una grande referenza per ottenere una versione semplificata della loro complessità naturale, facile da trasferire nel nostro medio. Basicamente abbiamo solo una copia. ho usato gli occhi sul vestito per costruire un fine netto di texture per simulare la griglia visuale della tinta vecchia lì che usa. se stai dipintando un materiale che non è davvero semplice non hai bisogno semplice semplice. Non ho molto di scelte tonale per il silvio non metallico, quindi ho semplicemente usato versioni del mio mix bianco e bianco originale per dipintare tutte le riflessioni e gli occhi. Grazie al tono naturale dell'iris è natura e al contrasto tra le altre parti calme, questo tono è più caldero e più blu con ogni nuova visita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con la stessa logica usata sulla parte alta del vestito, sul vestito uso gli occhi per creare una fine textura di tinta vecchia. Uso linee verticali di punti per dare l'idea di qualcosa e fatto con un patto preciso che può fluire con la scelta. Puoi vedere che ho preso i miei scelte generali solo ad un certo punto senza riuscire a loro valore massimo. Questo perché voglio prima aggiungere l'effetto luce a questa valore generale migliore e poi posso completare la progressione con i miei punti focali, la valore generale generale di valori e i migliori toni per ogni parte specifica. Hai visto che mi dipinto molto di effetti luce con l'acqua e come ho detto in centenze di commenti e email, sì, può essere fatto con l'acqua. Ciò che faccio con l'acqua è sempre, sempre una traduzione di ciò che ho appena e posso fare con l'acqua. E l'interessante cosa è che è estremamente, estremamente facile. Guardate che questo video appena per un'avviata generale del mio approccio. Prima definisco la radia della mia bubola virtuale di luce. Questo è probabilmente la cosa più importante perché ti dà la mappa di dove impiantare la intensità massima e dove è il limite dell'acqua esternale. Poi aggiungo l'acqua e il medio al mio giallo puro per farlo estremamente trasparente. Con questo colore ho semplicemente filtrato l'area esposta alla luce, quasi come ho fatto quando impiantare la pelle. Potete solo un pochi strumenti per creare questi tipi di effetti, prendendo attenzione per muovere l'acqua dall'acqua esternale al centro dell'acqua, dove il colore deve essere più forte, esattamente come lo faccio quando spaventando una transizione. l'unica differenza con l'acqua esternale è il tempo che bisogna produrre l'effetto stesso. qui applico l'acqua del terzo e l'effetto è già abbastanza forte. Insistendo più in punti specifici, ho aumentato l'opasità e la saturazione, creando l'illusione dell'acqua con una modulazione fina. Tutto movimento dell'acqua deve essere nella stessa direzione perché deposite la massima quantità di vernice dove l'acqua resta la superficie e la vernice di l'acqua è tutto sui vettori credibili. Con la luce in place posso aggiustare la posizione e l'intensità delle ombre, luce e riflessioni. solo quasi all'inizio del lavoro principale ho trovato un'idea di per la base. Ho impiantato un rinno dell'acqua esternale per dare l'idea che l'unica luce è sul mondo, combattendo contro una palla di scuola di scuola all'interno. Per spaventare più su questo concetto, ho impianto l'acqua solo sui dettagli spaventare il modello. Usando meno e meno spaventati, muovendo verso l'altra base. ora è solo un'attività di aggiungere le finali estremi, lavorando sui dettagli di quello che ho già in place. spaventare il modello di scuola di scuola. spaventare il modello di scuola di scuola e penso che questa è la parte più interessante. Usualmente tendo a separare i miei toni in punti specifici perché spaventare i colori sono estremamente diversi, rilassano contro l'altro e hanno bisogno di essere gestiti in questo modo. qui l'armonia generale costante di ogni mix possibile rende tutto più facile e è pure divertente mixare i colori in questo modo rilassato e impianto. E qui è il reale risultato finale, circa tre ore di lavoro per completare un esercizio molto interessante e utile. Se sei un inizio, l'utilizzo di questa palette rende il processo estremamente forgivante per tutto quanto riguarda i toni, perché l'armonia loro è sempre una garantia. ma è molto utile e molto utile per esprimere i vostri strumenti di mix, perché i risultati di ogni ricetta non sono immediatamente predisciabili e non rilassati nel tuo cervello come giallo e blu dà verde. Più, bisogna capire come balanare il contenuto alto di bianco di questi mix. E se sei un pintor avanzato puoi mettere l'ascento su mood e atmosfera. O come nel mio caso, provi a seguire un'articolo esistente per impostare un set di parametri indipendenti dei vostri strumenti e dei pattern mix, quindi al fine c'è qualcosa per tutti. Se hai piaciuto questo video diamo un like e abbiatevi, ricordatevi che puoi chiedere qualsiasi domanda con i commenti e puoi seguire i miei progetti durante la settimana usando uno dei miei sociali. E se vuoi supportare il canale e il mio lavoro, guardate la mia pagina di Patreon e partite la comunità o magari chiedete una commissione. See you next week, guys! Ciao, ciao